Dall'Inps di Caltanissetta fanno sapere che chi non ha ancora presentato la domanda per l'assegno unico e universale ha tempo fino al 30 giugno per ottenere anche il riconoscimento delle mensilità arretrate spettanti a decorrere da marzo. Dopo il 30 giugno l'assegno decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, senza più diritto agli assegni arretrati. Presentando domanda a luglio, quindi, l'assegno che spetterà dal mese di luglio sarà pagato ad agosto. Peraltro, sul sito web dell'Istituto è disponibile un simulatore che, senza necessità di autenticazione da parte dell'utente, permette di calcolare l'importo spettante a partire da marzo 2022. Inps ricorda che tale importo è liquidato in ragione della condizione economica del nucleo familiare e quindi può essere determinato sulla base dell'Isee presentato e in corso di validità. Per chi non presenta Isee, è previsto il pagamento dell'assegno minimo di 50 euro al mese per figlio. Per inoltrare la domanda, è sufficiente accedere al sito web www.imps.it o rivolgersi ai patronati o al contact center dell'Istituto.